Nel 1979 io e la Renault abbiamo vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1 con questa vettura. Per me vincere quella gara è stato veramente speciale perché la macchina non era solo in parte francese ma lo era completamente ed era la prima vittoria con le gomme Michelin sulla vettura turbo. Ricordo che è stato un momento straordinario, non me ne sono reso conto subito perché sono stato travolto dalla folla, dagli amici, ingegneri, meccanici avremmo voluto festeggiare per tre o quattro giorni di fila ma non è andata così, dovevamo focalizzare la nostra attenzione sulla corsa successiva ma sarà sempre un ricordo veramente felice per me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.